Ciao a tutti ragazzi da RicchiDebo97, sono qua appena finito di lavorare, siamo il 23 luglio, lunedì 23 luglio e si tira avanti, volevo raccontare un po' di cosa ne penso io che la Francia ha vinto i mondiali che poi i francesi mi stanno un po' sulle billi perché se la tirano, perché diranno per altri 4 anni che qualcun altro non vincerà i mondiali o se lo vincono loro, diranno noi siamo i campioni del mondo e abbiamo vinto qua e là, siamo i campioni bla 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 e che dubbi bi bi e ormai mi sto sfinendo, sto dimagrando tantissimo, ah questo qua è un mio nuovo acquisto, è la mia collana stramba e la Juve, ah aspetta anche la Juve, voglio parlare anche della Juve perché la Juve ha preso la Juve ha preso CR7 ma io sono da una vita RC97, il mio hashtag e chiedo a tutte le persone che mi conoscono che guardano mai questo video di mandare in tendenza RC97 che è contro Ronaldo praticamente perché io da fede milanista sono RC97 e spero che non veda questo video Ronaldo che magari mi chiede diritti e finirò nell'astrico e però non penso che Cristiano Ronaldo inizi a seguirmi e guardare i miei video e soprattutto a capirli perché non li capisco io, pensate voi o Cristiano Ronaldo e che dire, siamo qua di nuovo nella stagione e fra due mesi giusti si finisce in teoria o forse anche prima, comunque questo qua è a livello di abbandono dell'appartamento in cui lasciamo però ovviamente non è sempre così, dobbiamo metterlo a posto giorno per giorno e il Milan, devo parlare del Milan, è stato preso di nuovo Elliot e così sono contento mi sono preso la maglia di Bonucci, spero che non lo vendino perché se no ho fatto una figura di merda e che dire, speriamo bene, altri aggiornamenti adesso non ne ho e quindi ci vediamo alla prossima ciao a tutti, mi sono dimenticato di dire ma è la cosa più importante, seguitemi, mettete like mettete RickyDebo97, scrivetemi, seguitemi, scrivetemi, fate quel calcio che volete e alla prossima, ciao RickyDebo97